E' una cosa che ci siamo inventati, non nasciamo come banco alimentare, noi siamo un centro antiviolenza sulla donna a Palermo. Abbiamo cominciato e stiamo per aprire una sede a Palermo, quando poi purtroppo è successo quello che è successo. In queste attività sociali che noi facciamo abbiamo riscontrato qualcosa di incredibile, di mostruoso, cioè gente murata, viva dentro, che non aveva veramente da mangiare. E questa è stata una cosa, la prima nostra azione è nata proprio da questo verificare che c'erano le famiglie che non avevano nulla da mangiare. Abbiamo cominciato con fare delle collette, poi non ce l'abbiamo fatto più e abbiamo fatto l'attività da associazione. Abbiamo deciso, grazie al laboratorio Una Donna, che ci ha dato la possibilità di poter accedere a questo banco alimentare, e quindi aiutare in maniera più cospicua e comunque molto più famiglie. Abbiamo cominciato così per gioco, eravamo circa 15-20 famiglie, oggi ci troviamo circa a gestire 70-80 famiglie, però è un continuo crescere. Quello che ho riscontrato comunque è una grande solidarietà da parte dei cittadini, verso chi ne ha veramente di bisogno. E purtroppo abbiamo visto con i nostri occhi grandissime deficienze in merito. E mi stranizza purtroppo aver ascoltato una dichiarazione qualche settimana fa del sindaco, che si vantava, dove ha dichiarato lui stesso, non io, ma la sua bocca su TGS, collegamento via Skype, dove ha detto che con lui garantirà pane e pasta a tutti e che nessun palermitano morirà di fame. Nel momento in cui uno con una famiglia con reddito zero, quattro persone, da un contributo settimanale pare a 90 euro, beh, caro Luca Orlando, non credo, se tu hai questa convinzione ti invito a metterti in macchina con me, dietro, un metro di distanza, ti faccio da autista e ti faccio vedere io la realtà di Palermo, perché tu sicuramente sei distante, distante anni luce, mi dispiace dirtelo, ma non funziona così, mi dà fastidio, mi dà fastidio questo distacco dalle istruzioni nei confronti, verso i cittadini. Beh sì, io sono ormai pensionato e è successa questa brutta cosa, c'è tanta gente che si è trovata in situazioni tragiche e non si sa come aiutarli, perché se dobbiamo stare tutti chiusi in casa non lo sai e c'è gente che muore di fame, appena ho visto che c'è un'associazione che fa qualcosa, mi sembra giusto aiutare per quello che uno può.